Siamo con Lorena Mason, giovane imprenditrice alla guida di un'azienda importante concessionaria giusto da un anno di Pasquali. Ci racconti qualcosa di questa sua attività? Sì, la nostra azienda è una realtà che è nata nel 1978, quindi siamo presenti nel mercato, nel Triveneto da oltre 30 anni. Commercializziamo molti marchi e da un anno abbiamo introdotto anche il Marco Pasquali di cui siamo molto contenti perché siamo riusciti in un anno a dare dei buoni risultati e vediamo che è una macchina che dà soddisfazione incontro alle esigenze del cliente. Quali sono gli elementi di forza che avete potuto riscontrare in quest'anno di collaborazione nelle macchine Pasquali? Vediamo che sono macchine molto performanti e che rispondono alle esigenze della clientela sita nelle nostre aree. Quindi sono macchine perfette per le zone da vigneto. Adesso con l'introduzione dei nuovi modelli in Siena, con il motore Kubota e con la nuova macchina EOS, un motore Kohler, sono convinta che sicuramente riusciremo a avere dei buoni risultati per i prossimi anni. Un anno è un traguardo comunque importante, significativo, un anno di collaborazione. Abbiamo parlato delle macchine del marchio Pasquali. Per quanto riguarda l'organizzazione, siete soddisfatti del servizio che vi sta offrendo il gruppo BCS? Sì, siamo molto felici perché vediamo che sia nell'ambito commerciale ci sono persone che ci seguono molto, sia a livello di marketing e comunicazione. Per cui devo dire che siamo veramente soddisfatti del rapporto e collaborazione instaurato. Una ragazza giovane come lei che affronta un'attività imprenditoriale, oggi non è semplice per un giovane fare impresa, cos'è che porta? Sicuramente è la passione tramandata dalla famiglia.